buonasera a tutti ragazzi sono ricuto siamo su un nuovo video siamo su questo video per parlare di blackberry privo allora vi dico già da mo come premessa che blackberry privo è il primo telefono è il primo telefono blackberry a utilizzare sistema operativo android di casa blackberry ovviamente bene andiamo a vedere alcune immagini e vi dico io le le mie impressioni e come come funziona gli accessori e qua in quant'altro bene come già sapete blackberry e canadese e blackberry privo abbiamo già detto è il primo telefono il primo telefono blackberry ad avere sistema operativo android allora queste sono vi faccio da alcune immagini potete trovare in tre colori bianco nero e violace questo qua è il blackberry privo visto da più parti come potete vedere laterale sopra sotto bene detto questo vi lascio con le immagini nel frattempo che andiamo a vedere le immagini faccio vedere anche mentre mentre andiamo a girare immagini vi dico anche le caratteristiche questa è la prima volta che ci sono questo video senza vede altri video perché prima lo sapete come facevano a vedere video e poi gli stoppavano andiamo a parlare ma io vi dico direttamente perché blackberry privo non sono studiato bene allora prima cosa blackberry privo ha una memoria di 32 gb questa schermata iniziale sono disponibili solo tre in tutta italia se andare su amazon ovviamente 32 gb di memoria se lo trovati in tre colori che li abbiamo già detti bianco nero e violetto poi ci sono riprendono il telefono è arrivato in italia a circa 850 euro 800 euro perché blackberry in pratica esagera sempre con i prezzi ma non bisogna farlo perché sbagliato perché infatti nessuno sarà comprato sto corso ma appena hanno calato sui 370 euro che ovviamente sta perché uscito e chi one l'hanno abbassato ed è più possibile comprarlo per i perché è un top non è più un top di gamma zitto non è più un top di gamma è un meglio gamma adesso ci sono nuovi lo trovate a partire da 170 euro oppure 369 usati da 277 euro allora il design non possiamo dire è moderno e innovativo con un grande schermo fulltouch curve da da circa 5,4 pollici se ricordo bene sì con tastiera estraibili perché infatti basta vedere queste tastiera estraibili in realtà due tastiere una fisica che si chiama qwerty e l'altra digitale per in base a capito la termina quella utilizzate il sistema operativo android e 5.1.1 personalizzato con interfaccia blackberry che offre funzioni innovative per un'esperienza al top della gamma se vogliamo dire così vabbè come al solito sono i programmi come ad esempio blackberry hub bbm e quant'altro poi ci sono e altre prestazioni nella batteria dura veramente assai 3400 3410 miliampere ora con sistema qui quel che c'è poi a una incredibile fotocamera da 18 megapixel con un flash led e può girare video fino a 4k potete trovare le versioni una micro sd una solo con una sd e l'altra con una l'altra doppia sim che in cui potete raggiungere una micro sd oppure 2 sim o una micro sd con una sola sim ma un micro sd card fino a 2 terabyte pensate un poco connettività a beh poi connette in 4g hsp a wifi 224 non mi ricordo che 4.5 gigahertz si è portato in porto con connessione multimediale la cover se la volete comprare di questo telefono sia circa 30 euro in base al modello ci sta quella la semplice quella da intelligente quella semplice la provate pure tipo 5 euro 7 euro massimo poi è un display lcd con capacitivo 16 16 mili colori 2560 per 1100 1440 pixel zoom digitale e fino a a 4 per 16 noni farei formato immagini risoluzione schermo 2560 1440 pixel poi molto molto sottile circa aspetta mi ricordo 7,7 0,9 14,7 centimetri con per 192 grammi va con gli uniti a batteria e poi la sua scocca un poco particolare oltre a essere in metallo a un rivestimento in plastica che si chiama polimere di litio pensiamo non solo la batteria anche il materiale attorno poi ci sta la radio mp3 uscita cavo da 3.0 taxi e jack da tre e mezzo il modello del 2015 aggiornato da 5.1 5.1 punto 1 6.0 punto 1 e monogato 7.1 punto 1 precedentemente nel 2016 ragionano 7.0 la batteria con uso stress può durare 18 ore ma senza problemi fate un periodo spento vi dura pure durare circa quattro giorni perché comunque elevata 3410 mila per ora con 23 ore con 23 ore di chiamate rifiolate liscio e consumate poca batteria ovviamente massimo espandibile fino a 198 2 terabyte per via della sd bene da ricordo è tutto non riuscire nel prossimo video con questa immagine io vi lascio bene da ricordo è tutto non riuscire nel prossimo video ciao ragazzi